e adesso ci spostiamo sulla west coast a los angeles l'avevamo ospitata a maggio nei nostri studi e la ritroviamo oggi lei è la super chef ale gambini ciao ale ben ritrovata nel nostro studio virtual remoto ciao luigi ciao mike allora ale è stata una settimana molto importante quella dal 15 al 21 novembre che celebrava la cucina italiana nel mondo tradizione e prospettive della cucina italiana consapevolezza valorizzazione della sostenibilità alimentare questo è il titolo della kermess con te ovviamente ci dedicheremo alla città degli angeli tanti gli eventi organizzati dal consolato in collaborazione con italy la ita enit il museo italo americano di los angeles e tanti altri partner raccontaci un po com'è andata la settimana della cucina italiana si è svolta negli stati uniti dal 15 al 21 novembre con eventi che hanno toccato le maggiori città americane da washington los angeles new york detroit miami solo per menzionarne alcune e la tematica di quest'anno era la cucina italiana tra tradizione e innovazione sostenibilità qui in los angeles in particolare abbiamo avuto una serie di eventi meravigliosi in tutta la città classi di cucina webinar addirittura l'anteprima del documentario dedicato alla città di los angeles e alla cucina che si chiama la cucina italiana los angeles ale tu in particolare hai preso parte a due eventi il 18 novembre io in particolare ho partecipato a due eventi il primo dei quali organizzato dall'accademia italiana della cucina che si è svolto a santa monica presso il ristorante la puglia ho infatti fatto una dimostrazione di come assaporare e degustare al meglio i migliori cioccolati italiani l'altro evento invece si è svolto in maniera ibrida io in particolare ero da italy los angeles dove ho dimostrato come preparare un tiramisù alla zucca in occasione di thanksgiving utilizzando i prodotti matilde vicenzi di cui sono brand ambassador e abbiamo inoltre parlato della storia e della pasticceria italiana influenzata appunto dalla matilde vicenzi tra l'altro tra l'altro possiamo dire che questo è un periodo particolarmente impegnativo ma ricco di soddisfazioni per te in programma ho molte novità sempre la mia attività di brand ambassador con matilde vicenzi che continuerà con nuovi eventi sul territorio inoltre avrò una serie di classi dedicate alla degustazione non solo di cioccolato ma anche di te perché sono diventata una certified team master in cioccolato sommelier quindi implementerò ulteriormente questa attività oltre ovviamente quella di italian food ambassador negli stati uniti che continuerà per tutto l'anno grazie mille ale grazie torna ancora a trovarci ovviamente grazie a voi un saluto da los angeles a presto ciao